e poi assist per Metreveli si siamo arrivati veramente adesso da Collins, Travis Diner scarica per Vanuzzo che serve sotto canestro Metreveli 14 punti per lui sta branchettando letteralmente sotto canestro cambia veramente poco insieme comunque ad altre formazioni cambia veramente poco Metreveli trova un'altra schiacciata 16esimo punto per lui davvero una partita che ricorderà a lungo il numero 4 bianco blu tutti i canestri in fuori gioco Grazie a tutti